Renzi tiene la sua conferenza stampa da sindaco a Firenze in perfetta concomitanza con quella del premier Letta a Roma. Si dice pronto al secondo mandato, non convinto però della necessità di nuove primarie per il comune, consapevole di poter lasciare Palazzo Vecchio prima del termine, destinazione Roma, obiettivo Palazzo Chigi nel 2015. Non si arresta il pressing del segretario del PD sul governo, il suo incalzare sull'agenda, visto con diffidenza da chi teme un lavorio per logorare Letta e andare alle urne a maggio, come auspica Berlusconi. Dopo le incursioni sulla legge di stabilità e sulla legge elettorale, Renzi è tornato alla carica che tempo che fa ieri su Rai 3 su immigrazione e lavoro. Garantisco che cambieremo la legge bossi fini, ha ribadito il segretario del PD, sull'onda delle tragedie di Lampedusa e delle proteste per le condizioni dei migranti nei CIE, i centri di identificazione ed espulsione. Il rottamatore annuncia la presentazione al gennaio del Job Act, il piano per il lavoro. Per i neoi assunti per tre anni, niente articolo 18, cioè nessun indennizio economico in caso di licenziamento, abbattimento dei contributi per chi assume, superamento della cassa integrazione, sostituita con un'indenità di disoccupazione per due anni e formazione professionale, anche per chi oggi non ha diritto alla cassa. Il PD deve tornare ad essere il partito del lavoro, dice il sindaco di Firenze. La discussione solo sull'articolo 18 ci riporta alla casella di partenza. Non è importante un articolo, ma semplificare per dare garanzia a tutti.